Diciamo che deve dare sempre il massimo, deve allenarsi sempre bene e poi c'è il mister che fa le proprie scelte. Per un giocatore penso che la concorrenza sia importante perché ti fa allenare meglio, ti fa dare sempre il massimo perché tutti vorrebbero giocare ma solo due possono andare in campo. Io spero di fare bene come ho fatto l'anno scorso, speriamo di fare un buon campionato dopo una bella promozione, sarebbe bello finire questo campionato rimanendo in Serie B. Noi siamo una neopromossa che cerchiamo di dare battaglia a una squadra che comunque, come ho detto già prima, ha già fatto dei campionati di Serie B e noi andremo lì a giocarci la nostra partita. Sappiamo che il Sassuolo gioca un 4-3-3 in vista che ci ha spiegato, Pioli è un bravissimo allenatore, io lo conosco anche ai tempi della Salernitana, quando io facevo il settore giovanile lui allenava la Salernitana, se ne parla bene, è una brava persona, anche come allenatore bravo, fa giocare bene la squadra. Quindi sappiamo di incontrare una buona squadra. Sarebbe un gran risultato perché giochiamo anche fuori casa, la prima iniziare bene non fa mai male, quindi speriamo di iniziare la coppia del giusto.